ciao ragazze ciao ragazzi eccoci alla quarta lezione del corso di chitarra per principianti se stai guardando questo video su youtube se è capitata o capitato qui per puro caso sappi che questo video fa parte di un corso che puoi vedere integralmente qui su youtube oppure sul mio blog ma se viene a vederlo sul mio blog lo trovi organizzato in maniera più ordinata e inoltre hai accesso a del materiale aggiuntivo cioè pdf stampabili e altri video comunque ti metto tutti quanti i link nella descrizione di questo video e adesso ciancino le bande e veniamo alla quarta lezione del corso di chitarra per principianti in questa quarta lezione andiamo a fare un giro di la non è un giro armonico è un giro molto simile a quello che abbiamo visto nella prima lezione nella prima lezione ti ricorderai che abbiamo fatto un giro che abbiamo chiamato di la settima in questo caso è un giro di la composto da tre accordi molto simili cioè la re e mi ma senza le settime se da un punto di vista strettamente armonico diciamo così si tratta di accordi più semplici da un punto di vista pratico cioè dal punto di vista di cosa dobbiamo effettivamente andare a fare con la mano sinistra si tratta di accordi un filino più complessi nel senso che l'accordo di la settima si fa utilizzando solo due dita della mano sinistra e invece l'accordo di la senza la settima si fa utilizzando tre dita e lo stesso discorso vale per l'accordo di mi mi settima si fa solo con due dita mi senza la settima si fa utilizzando tre dita ma insomma sono accordi comunque molto facili per quanto riguarda la scansione del tempo quindi del plettro e della mano destra andiamo a organizzare le pennate in un modo diverso da come le abbiamo organizzate nelle prime tre lezioni perché nelle prime tre lezioni abbiamo preso come riferimento il numero 4 o comunque il numero 8 che è un multiplo di 4 invece in questo caso come riferimento prenderemo il numero 6 quindi le nostre pennate saranno organizzate a gruppi di 6 prima di andare a vedere il dettaglio di cosa dobbiamo fare con la mano sinistra e cosa dobbiamo fare con la mano destra andiamo ad ascoltare cosa dobbiamo suonare questo è il giro e vediamo come dobbiamo posizionare le dita della mano sinistra sulla tastiera della chitarra per eseguire i tre accordi che compongono questo giro di la innanzitutto partiamo con l'accordo di la che si fa così mettendo il primo dito sulla quarta corda al secondo tasto il secondo dito sulla terza corda al secondo tasto e il terzo dito cioè l'annulare sulla seconda corda sempre al secondo tasto la sesta corda non va suonata ma come abbiamo visto per l'accordo di la settima si tratta di un mi e la nota mi fa parte dell'accordo di la quindi se la suoni non è un dramma per evitare di suonarla come sempre andiamo a infilare la quinta il plettro tra la quinta e la sesta corda questo è un accordo di la come vedi è molto simile a quello che abbiamo visto nella prima lezione cioè l'accordo di la settima che si faceva così basta infilare il secondo dito qui in mezzo e otteniamo l'accordo di la senza la settima il secondo accordo è un accordo di re e si fa in questa maniera mettendo il primo dito cioè l'indice sulla terza corda al secondo tasto il secondo dito cioè il medio sulla prima corda sempre al secondo tasto e il terzo dito cioè l'annulare sulla seconda corda al terzo tasto quinta e sesta corda non andrebbero suonate ma come per il re settima la quinta corda è una nota la e fa parte dell'accordo di re e quindi se la suoniamo non è una tragedia per evitare di suonarla come sempre andiamo a infilare il plettro tra la quarta e la quinta corda e questo è un accordo di re senza la settima un re normale il terzo e ultimo accordo di questo giro è un accordo di mi e si fa così mettendo il primo dito cioè l'indice sulla quarta corda al primo tasto il secondo dito cioè il medio sulla quinta corda al secondo tasto e il terzo dito cioè l'annulare sulla quarta corda sempre al secondo tasto quindi i tre accordi sono la re e mi in questo giro di là non andiamo a utilizzare il consueto modulo da quattro tempi o da otto tempi quattro tempi o otto tempi fondamentalmente è un po la stessa cosa perché quando suddividiamo in otto tempi in realtà stiamo semplicemente dividendo in due ognuno dei quattro tempi che quindi si moltiplicano diventano otto in questo caso invece andiamo a fare una cosa effettivamente diversa cioè utilizziamo un modulo da sei tempi e come lo sviluppiamo utilizzando su alcuni tempi la pennata singola che abbiamo visto fin dalla prima lezione dall'alto verso il basso su alcuni tempi la pennata doppia che abbiamo visto dalla seconda lezione in poi cioè così quindi fondamentalmente andiamo a suddividere il tempo in due pennate più veloci lo sviluppiamo in questo modo sul primo tempo pennata singola verso il basso sul tempo due e sul tempo tre facciamo pennata doppia sul tempo quattro pennata singola sul cinque singola e sul sei singola questo è il modulo ritmico che andiamo a sviluppare durante tutto il giro e lo facciamo in questo modo lo facciamo due volte sull'accordo di la quindi così seconda volta poi lo facciamo due volte sull'accordo di re poi lo facciamo una volta sull'accordo di la una volta sul mi e di nuovo una volta sull'a e una volta sul mi questo è il giro adesso andiamo a mettere insieme mano destra e mano sinistra vediamo come coordinare il tutto 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Va bene ragazzi e ragazzi, grazie per aver pazientato fino alla fine di questo video Grazie soprattutto a quelli e a quelle che hanno visto tutti i video di questo mini corso Che in realtà non finisce qui Se vi va potete venire sul mio blog, lì c'è altro materiale Bisogna iscriversi ma ovviamente l'iscrizione è gratuita E ci stanno altre video lezioni, ci sono pdf stampabili Ci stanno per esempio, ho fatto una video lezione dove spiego un esercizio per sviluppare la tecnica del barret Che è sempre una cosa un po' ostica per i principianti Perché bisogna sviluppare un po' di forza nella mano sinistra E lì spiego un esercizio per velocizzare l'apprendimento della tecnica del barret In modo da farlo completo e pulito Poi ho fatto un altro video in cui spiego come si fa a inventare un ritmo da tenere con la mano destra Quindi se poi vuoi studiare delle canzoni in maniera autonoma Come faccio a gestire il ritmo con la mano destra? In quel video te lo spiego, riassumo i concetti fondamentali Poi ci stanno i pdf di scale, infografiche Poi ci stanno i pdf con i giri di accordi che abbiamo visto in questo corso Così quando vuoi ripassare non è che devi stare a riaprire youtube Rimetti il video nel punto preciso in cui spiego quel determinato passaggio C'hai il pdf stampabile davanti, te lo metti davanti e così a colpo d'occhio velocemente ricordi cosa devi fare E poi ci stanno le canzoni da suonare Continuo a fare il video tutorial di canzoni E ci stanno anche i pdf con gli accordi Relativi a quei video tutorial Quindi vieni sul mio blog Se non l'hai mai fatto Fai l'iscrizione al mio blog Così hai accesso a tutto questo materiale Che poi aumenta col passare del tempo E se non l'hai mai fatto fai anche l'iscrizione al canale youtube Perché nel frattempo io continuo a fare video tutorial gratuiti su youtube E così se ti iscrivi quando escono li puoi vedere e trovare più facilmente Va bene Grazie ancora e ci vediamo alla prossima Se ti va Ciao